Si fa la spesa una volta, non è che vi ho accattato molto a cedì, ma ho fatto un lupo di rosso, ma ho fatto una spesa perché lei mi mette un brodo per fare un brodo vegetale. Roberto Scusa, quello che scrive è un carabiniere, un carabiniere manda un messaggio a un sindaco, il sindaco si chiama Roberto e dice Roberto Scusa, sta un giovane che è venuto da Firenze, ma la sorella non lo accetta in casa perché ha paura. In questi casi avete disposizione? Cioè avete capito la scena? Cioè uno torna da Firenze, va a casa sua e la sorella non lo fa entrare, dice va va a te da qua, tenegli! E magari ufra e t'abbasciano che dice va a mangiare, va a battire! Cioè ve l'ha immaginata questa scena qua?